E' la giornata più nera sul fronte dell'emergenza coronavirus, 11 morti in 24 ore, nuovo boom di casi 137 con un indice di contagiosità che schizza al 16%, altri 20 positivi a Termoli, 18 a Esernia e in ospedale ci sono 115 persone, 19 in terapia intensiva. I giudici hanno valutato le conseguenze drammatiche di un'eventuale chiusura così illegali che hanno curato il ricorso vinto al TAR contro la soppressione del punto nascita dell'ospedale di Termoli. Ora ci aspettiamo scelte più oculate, le parole di Massimo Romano. Poi l'appello dei sindaci a rilanciare il Santimoteo, duro attacco di Venitelli a Giustini e ai vertici Asrem. La prevalenza della variante inglese in Molise è del 93%, questo è il risultato della terza indagine dell'Istituto Superiore di Sanità. Emergenza Covid, Giustine e Florenzano domani saranno ascoltati dal Consiglio regionale. Intanto dopo le parole del sottosegretario Sileri, il presidente Toma torna a definire fallimentare la gestione commissariale, bordate anche da Dilucente. Ospedale da campo a Termoli, primi ricoveri, siamo qui per dare aiuto ai colleghi del Molise per decongestionare il Santimoteo, le parole di un giovane medico fiorentino. Infine lo sport, il calcio e il campo basso ha la migliore difesa del girone F, il portiere Raccichini, importante essere sempre concentrati. L'Agnonese gioca bene ma spreca tanto, al Civitelle passa il Real Giulianova. Bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito si aggrava sempre di più la situazione dell'emergenza coronavirus in Molise. Nell'arco di 24 ore, 11 persone sono morte a causa del Covid. Erano ricoverate la maggior parte nei vari presidi allestiti in regione, ma tra i deceduti c'è anche un 62enne di Montagano che la settimana scorsa era stato trasportato tramite la Cross a Caserta. e c'è un nuovo boom di casi, sono 137 i nuovi positivi rispetto agli 846 tamponi processati in queste ore dall'Asrem con un indice di contagiosità che schizza al 16,2%. 7 i nuovi ricoveri, un trasferimento in terapia intensiva al Cardarelli. La maggior parte di questi ricoveri sono invece al Santimoteo di Termoli. Lo abbiamo detto, 11 decessi per un totale dall'inizio della pandemia di 370 morti. Una cifra che fa davvero spavento. Abbiamo detto anche dei nuovi casi, vediamo i centri più colpiti rispetto a questi 137. Ancora tanti a Termoli, 20 nuovi positivi, 18 a Isernia. Poi ci sono i nove di San Martino in Pensilis, i sette di Campobasso, i sette di Agnone. Insomma, un'epidemia che non si resta. 19 attualmente i pazienti che sono in terapia intensiva tra il Cardarelli e il Neuromed. Mentre complessivamente sono 115 le persone affette dal virus ricoverate. I positivi invece attuali complessivamente sono 1787. Insomma, questi numeri di un'emergenza che non si attenuano. Abbiamo visto anche a livello nazionale, oggi c'è stato un aumento dei contagi, più di 22 mila. Sappiamo che a livello statale si sta pensando a un ulteriore inaspiramento delle restrizioni. Abbiamo detto il totale dei contagi 1787, i ricoveri 115, 19 le persone in terapia intensiva e il totale dei decessi 370. E in tutto ciò oggi c'è stata la notizia dell'accoglimento da parte dei giudici amministrativi del ricorso contro la chiusura del punto nascita dell'ospedale Santimotio. Nel pomeriggio una conferenza stampa con i sindaci che avevano firmato il ricorso, i legali che lo hanno curato in sede giudiziaria. E' stata espressa la volontà di un rilancio complessivo del Santimotio. Ma sentiamo tutto nel servizio. Un territorio che non fa nascere i suoi figli è condannato a morire. Noi fortunatamente siamo stati condannati a vivere. Le parole del sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo della Porta, racchiudono il sentimento di coloro che in questi anni si sono battuti per mantenere attivo il punto nascita dell'ospedale di Termoli. Cioè gli altri 16 primi cittadini del Basso Molise e Cinzia Ferrante in rappresentanza dei vari comitati sorti nella città di Reatica. La sentenza numero 80 del Tar ha deciso che al Santimotio si continuerà a nascere. Come hanno spiegato in conferenza stampa i legali che hanno curato il ricorso, Vincenzo Iacovino e Massimo Romano, i giudici hanno mostrato molta più lungimiranza della classe politica in quanto hanno valutato le conseguenze che ci sarebbero state dopo la chiusura di quel servizio. Questa sentenza va valorizzata e fissa dei principi in materia di diritto alla salute che vanno oltre Termoli, vanno oltre il punto nascita e vanno oltre il Molise. E spiegano una straordinaria attualità anche nel contesto della fase pandemica. Perché cosa riafferma il Tribunale amministrativo regionale recependo le doglianze del nostro ricorso? Afferma un principio che è prima ancora che di diritto, è un principio di buonsenso. Perché in gioco qui c'è il diritto alla salute. Il principio che viene oggi statuito dal Tarmolise è quello in base al quale non ci si può svegliare una mattina e decidere che si chiude un reparto o si chiude un servizio senza porsi il problema di cosa sarà domani mattina. Senza il punto nascita a Termoli, infatti, le partorienti dovrebbero sostenere i viaggi fuori regione per accorciare i tempi e diminuire i rischi. Viaggi difficoltosi, considerando lo stato della rete viaria. Insomma, si era deciso di chiudere senza però prevedere alternative e firmare i famosi accordi di confine che avrebbero garantito quel diritto alla salute che non può essere messo in discussione. Il sindaco Roberti, che abbracciò questa battaglia da neo eletto, ha colto l'occasione per ribadire che l'ospedale termolese va rilanciato e il sacrificio che si sta compiando ora con la pandemia deve portare a una riattivazione di tutti i servizi. L'appello adesso è a non abbassare la guardia perché l'ASREM potrebbe proporre ricorso verso la sentenza. E sempre restiamo su questa notizia e sentiamo gli altri pareri, quelli dell'avvocatessa Laura Venitelli, che ha curato gli interessi del Comitato Voglio Nascere a Termoli, e di Cinzia Ferrante, che da sempre è a capo di questa battaglia. Esulta il basso Molise, il Tribunale Amministrativo Regionale ha colto il ricorso di 16 comuni e ha annullato tutti gli atti con cui la struttura commissariale e l'ASREM avevano disposto la chiusura del punto nascite dell'ospedale Santimotio di Termoli, che dunque deve restare aperto, una battaglia che ha visto in prima linea i sindaci dei comuni della zona, assistiti dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Massimo Romano, Vincenzo Fiorini e Silvio Di Lalla, i quali nelle prossime ore terranno una conferenza stampa. Il sindaco Francesco Roberti, a nome di tutti i colleghi firmatari, esprime viva soddisfazione per l'accoglimento del ricorso. I sindaci, dice, hanno sempre creduto nel mantenimento di un reparto indispensabile per la città e per tutto il basso Molise, una battaglia condotta con forza anche dalle mamme che si sono riunite nel comitato Voglio Nascere a Termoli, rappresentate dall'avvocato Laura Venitelli, che a Teleregione ripercorre la vicenda e attacca duramente il commissario Giustini e i vertici ASREM. Il commissario Giustini e l'ASREM dispongono a giugno del 2019 la sospensione del punto nascita di Termoli. La dispongono senza stabilire però dove le donne dovevano andare a partorire, senza individuare accordi di confine con quelli che erano gli ospedali limitrofi. Si limitano a riferire nelle difese presentate in tribunale che le persone potevano andare, le donne potevano partorire negli ospedali vicini di Vasto, potevano recarsi a Campobasso nonostante ci fossero tutte le difficoltà della rete viaria, potevano addirittura arrivare a Chieti. Questa modalità di gestione della questione del punto nascita di Termoli, che poi rispecchia un po' la modalità superficiale di gestione di tutta la questione sanitaria del Molise, a questa superficialità ha per fortuna mezzo fine il provvedimento del TAR di oggi, la sentenza, che in maniera definitiva annulla quella sospensione, sostenendo che il provvedimento di chiusura non era stato suffragato da una istruttoria e neppure da accordi di confine. Bene, il TAR ha dato una lezione importante a chi oggi continua a gestire in maniera così superficiale quelle che sono le questioni del diritto alla salute. Una battaglia vinta dai cittadini, in particolare da chi ha deciso di metterci la faccia come Cinzia Ferrante, presidente del comitato Molisanità L113. Le modalità con cui è stato chiuso, sospeso il nostro punto nascita erano sbagliate. Noi continueremo comunque su questa linea, in quanto non essendoci ancora un nuovo piano operativo approvato, non sappiamo se il punto nascita verrà incluso o meno. Naturalmente, nell'eventualità che ciò non avvenga, saremo pronti a impugnare il piano operativo. In Molise la percentuale più alta di prevalenza della variante inglese, cioè il 93,3% contro una media nazionale che è al 54%. Questo è il risultato della terza indagine rapida condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dall'Istituto Bruno Kessler in collaborazione con le regioni. I tamponi positivi sequenziati nei laboratori attrezzati sono relativi ai casi notificati il 16 febbraio. Le altre due varianti, brasiliana e sudafricana, invece, in quei campioni non sono state rilevate. L'ufficialità della circolazione della mutazione chiamata VOC, lo ricorderete, arrivò dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo il 10 febbraio scorso. Presenza massiccia nel Basso Molise, ma venne individuata anche nel resto della provincia di Campobasso e anche alcuni casi in provincia di Sernia. Una settimana dopo, dice l'indagine a campione dell'Istituto Superiore di Sanità, la VOC era più che largamente prevalente dietro il 93,3% del Molise. Dietro questo dato c'è la Sardegna con il 75%, poi la Liguria, la Lombardia e la Campania che sono sotto la media nazionale, l'Abruzzo con una prevalenza del 50,8%. Tutti i dati naturalmente in proporzione. Emergenza sanitaria, Giustini e Florenzano saranno ascoltati domani in Consiglio regionale. Intanto dopo le parole del Sottosegretario alla Salute Sileri, il Presidente Toma torna a definire fallimentare la gestione commissariale, bordate anche dal Consigliere Dilucente. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti. Mentre la sanità molisana arranca, eufemismo tra variante inglese che circola ovunque e ospedali al collasso, il numero dei ricoverati continua a salire, il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Carta Bianca, trasmissione di Rai 3, afferma che la sanità in Molise è gestita dal governo e si dice contrario all'Istituto del Commissario. Parole che hanno fatto gongolare il Presidente della Regione. Dopo mesi di attacchi ingiustificati contro la mia persona, violenti e dolorosi, scrive su Facebook Donato Toma, finalmente sul servizio pubblico il Direttore Mieli e il Sottosegretario Sileri fanno giustizia e raccontano la verità. La sanità nel Molise è gestita dal governo tramite un commissario nominato da Roma e tale modello è fallito. Siamo due volte vittime, continua Toma, di anni e anni di scelte sbagliate, clientelari prima e gestionali poi, e di un modello di governance, quello commissariale che non risolve nessun problema, anzi li aggrava. Ringrazio Sileri per averlo sottolineato, la sua chiosa. I territori vanno responsabilizzati. Io sono pronto. Chissà cosa starà pensando il titolare di cattedra, il generale Angelo Giustini, che domani, insieme al DG Asrem, Oreste Florenzano, sarà a Palazzo d'Aimmo per essere audito dall'Aula per ottenere, recita la comunicazione ufficiale, le più puntuali ed esaustive informazioni in merito all'emergenza epidemiologica in atto. Giustini, in viso a Toma, Calenda, che nelle scorse ore mi ha chiesto le dimissioni insieme a quelle dei vertici Asrem, è anche addilucente per la scarsa attenzione che ha dimostrato nei confronti dell'ospedale di Agnone, nosocomio, che il consigliere regionale definisce fantasma. Dopo le uscite infelici del commissario Giustini, che continua i suoi disastri nella sanità molisana, penso che sia quasi ora che si degni di parlare del nostro ospedale, che è stato sempre dimenticato da tutto. In questi mesi anche qualche collega dell'Alto Molise ha sempre cercato di perorare la causa, però senza portare a casa nessun risultato. Eppure il governo era suo amico, il commissario era stato nominato dal suo stesso governo. Questo significa una sola cosa, che il fallimento dei commissari qui in Molise è sotto gli occhi di tutti. Forse qualcuno ha dimenticato il vecchio POS, forse il commissario che era venuto per il nuovo POS non sa neanche da dove iniziare a costruirlo, a scriverlo, a dettarlo un POS. E quindi ci ritroviamo con la sanità molisana in questo Stato, ma ci ritroviamo ancora di più con un ospedale nel territorio dell'Alto Molise che ad oggi non sappiamo se è un ospedale o non è un ospedale. Anzi, se vediamo nella relazione, la cosa vergognosa, la relazione che hanno fatto gli ispettori che sono venuti dal Ministero, il nostro ospedale non è stato proprio tenuto in considerazione, non è stato né visitato, non è stato visto, e sulla relazione non se ne parla. E' come se ad oggi è un ospedale fantasma. Sulla torre Covid al Cardarelli si continua a perdere tempo, i molisani hanno perso anche la voglia di curarsi. Queste le parole dell'ex presidente Iorio, che torna ad attaccare frontalmente Toma. Sentiamo Nicola De Santis. Mi vergogno di quanto sta succedendo nel Molise, soprattutto di quanto stanno descrivendo fuori dal Molise di quello che accade qui. Non doveva succedere. E' successo, ma corriamo ai ripari almeno. Errare è umano, ma perseverare è veramente diabolico. Michele Iorio attacca frontalmente il governatore Toma sul caos relativo alla torre Covid al Cardarelli, che a giudizio dell'ex presidente non si farà e se si farà non sarà utile al superamento dell'attuale emergenza. I sei mesi di realizzazione dell'impianto del cantiere corrispondono almeno a otto mesi di lavoro, se tutto andrà bene. Toma è consapevole di quanto sta accadendo, oppure anche la dirigenza Asrem gli è estranea. Ogni giorno che passa, afferma ancora Iorio, il disagio dei cittadini aumenta e cresce la sensazione che ormai appartiene ai molisani di non potersi curare. Ma non possiamo più perdere tempo. Io credo che ormai questa struttura non si farà più e se si dovesse fare non servirà la gestione di questa emergenza. Abbiamo la possibilità di dilottare anche i fondi, ammesso che sia un problema di finanziamento, presso l'ospedale Vietri di Larino attrezzare l'unico ospedale Covid del Molise riorganizzare i pronto soccorsi in maniera adeguata per fronteggiare questa pandemia, pronto soccorso di Termoli, Campobasso e di Sernia e ridare un po' di serenità all'ambiente sanitario perché i molisani possano tornare a curarsi presso i propri ospedali. Intanto si stanno utilizzando e sperperando, a mio giudizio, dei soldi con strutture mobili che non sono certo la soluzione, ma anche i problemi di finanziamenti non esistono, non esistono, ci sono i finanziamenti nazionali dedicati al Covid, ci sono al limite anche quelli regionali, quindi io credo veramente che sia solo un fatto di buona volontà e di evitare la testardaggine di seguire una strada senza uscite. L'attuale sistema di governo della sanità rema contro questa ipotesi e se ne dovrà assumere tutte le responsabilità, politiche e non. Noi abbiamo delle emergenze che non sono compatibili con i tempi moderni, addirittura siamo arrivati ad avere carenza di ossigeno, non abbiamo i campanelli in alcuni letti ospedalieri, abbiamo una situazione di difficoltà di gestione del personale, abbiamo anche i medici che sono arrivati a denunciare queste insufficienze e non sono ascoltati, nessuno li ha ascoltati. Io credo che davvero bisogna correggere il tiro. Quando c'ero io erano aperti tutti gli ospedali, quello di Larino, quello di Venafro, tutto funzionava, non dico al meglio, ma funzionava. C'era da correggere il tiro ma non da distruggere tutto. Io credo che non ho alcuna responsabilità di quanto accade. E poi è anche ora di lasciar perdere le responsabilità di quanto accadeva dieci anni fa. Bisogna pensare alle responsabilità di quello che accade oggi. Il Covid è un'emergenza straordinaria. Oggi parliamo di gestire il Covid, non di fare l'analisi dei piani sanitari o delle responsabilità. Quindi chi è responsabile della gestione del Covid si assuma le proprie responsabilità e agisca. Inizia a funzionare l'ospedale da campo montato davanti al Santimoteo di Termoli. Siamo qui per dare una mano ai colleghi in difficoltà e per decongestionare il Santimoteo. Le parole di un giovane medico fiorentino. Ascoltiamole. Inizia a funzionare l'ospedale da campo del Santimoteo. Allestito con l'obiettivo di decongestionare il nostro comio termolese, divenuto a tutti gli effetti un centro Covid. Nelle scorse ore l'assistenza ai primi pazienti che non hanno bisogno di cure ad alta intensità. I dettagli dei primi interventi sono stati forniti dal giovane medico Alessandro Serafini. Ci occupiamo principalmente di dare un sollievo ai colleghi dell'ospedale prendendo in carico dei pazienti dai vari reparti, quindi negli ultimi giorni principalmente di urologia, che magari appunto non hanno bisogno di cure, di livelli di attenzione altissimi, quindi sono a bassa, media intensità e fondamentalmente per esempio ieri abbiamo accolto sei pazienti che erano in lista d'attesa e per via del Covid magari si sono un po' congestionate e siamo riusciti a alleggerire un po' appunto il lavoro dei colleghi all'interno dell'ospedale e accorciare i tempi per effettuare queste visite. L'ospedale da campo è stato consegnato giovedì 25 febbraio. La struttura è destinata a pazienti non Covid in tre tende con 24 posti letto disponibili. Il primo ospedalizzato ieri pomeriggio preso in cura dai medici giunti da fuori regione per dare manforte alla sanità molisana. Allora io fondamentalmente mi sono laureato da poco meno di un anno e per via appunto dell'emergenza sanitaria sono stato subito impiegato col Covid. Principalmente il mio lavoro è con l'Eusca, in particolare il team Firenze Centro e appunto quando c'è stata necessità di partire con la Croce Rossa ho dato la mia disponibilità per otto giorni, ho preso una pausa dalla mia vita appunto quotidiana e sono venuto qua a titolo volontario per poter fare la mia parte. Il responsabile sanitario dell'ospedale da campo è l'attuale direttore sanitario del Santimoteo Celestino Sassi, mentre al primario del pronto soccorso Nicola Rocchia è affidata la responsabilità della gestione Covid. Si parlerà naturalmente dell'evoluzione dell'emergenza domani sera durante il conto alla rovescia. La trasmissione in onda alle ore 21 su Teleregione è condotta da Pasquale Damiani e proprio il collega Damiani ci anticipa i contenuti della serata. Sentiamo. Prima settimana in zona rossa, ma il ritorno alla normalità appare ancora molto lontano per un piano vaccini che fa acqua da tutte le parti in tutto il paese. Come sono lontani i tempi in cui ognuno di noi si incrociava con l'amico sorridente l'un l'altro, un modo di vivere anche e di viaggiare che appartiene al passato e non tornerà fino a quando non si raggiungerà la famosa immunità di gregge grazie alle vaccinazioni. Ecco perché bisogna puntare i pugni anche in alto, far arrivare il grido di dolore a chi gestisce questa situazione. L'unico modo per evitare il sovraffollamento negli ospedali è vaccinare quanta più gente possibile, nel più breve tempo possibile. Finora è stata gestita la produzione di somministrazioni in ritardo un po' ovunque. E' ora di accelerare. Il nuovo Premier Draghi sta sulla strada giusta. Speriamo bene. In consiglio regionale c'è grande bagarre, c'è chi fa proclami a tutto campo, dice di dimettersi, di andare a casa, chi invita tutti gli altri consiglieri anche a dimettersi, ma poi tutto rimane invariato. La gente osserva molto attentamente cosa accade nel palazzo della politica. E domani in consiglio regionale arriva anche il commissario ad acta Giustini. Gli ospedali sono al collasso e il virus avanza anche tra i giovani. Di tutto questo ne parleremo nella puntata di domani sera di Conto alla Rovescia, con inizio alle ore 21 su questa rete. Oltre al contributo del commissario ad acta Giustini, interverranno nei nostri studi i consiglieri regionali Andrea Dilucente e Andrea Greco, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio e il sindaco di Agnone Daniele Saia. Saranno anche tanti contributi esterni, inchieste tra la gente. Vi aspetto domani sera alle ore 21 su questa rete con Conto alla Rovescia. I carabinieri della compagnia di Larino hanno denunciato un uomo di 55 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo hanno fermato in territorio di Lupara e lui da subito è apparso nervoso, quindi è stato sottoposto a un controllo molto dettagliato che ha portato al rinvenimento e al sequestro di un involucro di cellofan termosaldato che conteneva 5 grammi di cocaina. L'uomo quindi è stato denunciato a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio e le attività dei carabinieri non si fermano anche per accertare la destinazione e la provenienza della cocaina. 30 aziende controllate, 13 risultate irregolari, individuati 46 lavoratori, dei quali 4 in nero, altri 4 irregolari. Sospese tre attività imprenditoriali contestate tre sanzioni amministrative, 12 persone sono state segnalate per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sono state combinate ammende per oltre 44 mila euro. Questi i numeri del bilancio relativo all'attività svolta all'inizio del 2021 dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Campobasso in collaborazione col personale dell'ispettorato territoriale del lavoro i quali hanno posto sotto la lente cantieri, aziende agricole e attività commerciali. Controlli finalizzati all'emersione dello sfruttamento, al contrasto del lavoro nero e all'osservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare nei confronti di un'attività di autolavaggio il titolare è stato segnalato all'autorità giudiziaria per non aver sottoposto i dipendenti alla sorveglianza sanitaria e per aver occupato in nero due lavoratori tra cui uno sprovvisto del permesso di soggiorno notificato anche un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore in Molise. Previsioni del tempo di venerdì 5 marzo l'alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento erosa da un fronte in transito oltralpe e diretto verso l'Europa orientale. Ne consegue l'ingresso di correnti più umide occidentali temperature senza particolari variazioni al più in aumento nei valori minimi venti deboli, mare da poco mosso a mosso eccole le temperature sui maggiori centri della regione Campobasso minima 4, massima 15 gradi Isernia 3.13, Termoli 5.16, Venafro 5.17 Adesso una breve pausa non andate via perché tra poco c'è lo sport Eccoci siamo tornati in onda per parlare di sport partiamo dal calcio di serie D e dal campo basso che è in testa della classifica anche e soprattutto grazie a una difesa d'acciaio il portiere Raccichini ai nostri microfoni dice importante essere sempre concentrati Migliore difesa del girone con 17 reti al passivo i campionati si vincono prendendo pochi gol lo sa bene mister Mirko Cudini che ha puntato molto sulla solidità difensiva per riportare il campo basso nel calcio che conta tra i professionisti ci tirano in porta da 25 metri la battuta di qualche mese fa del DS Stefano De Angelis quando si parlava di rinforzi nel reparto arretrato in effetti solo in rare occasioni gli avversari del campo basso hanno avuto vita facile nella metà campo rosso-blu merito di un 11 che difende con tutti gli effettivi di attaccanti che si sacrificano nel pressing di un centrocampo che fa filtro di una linea sincronizzata e attente infine di un portiere Matteo Raccichini che si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa Il portiere in partita deve stare attento 95-100 minuti indipendentemente se arrivano pochi di rinporto ovviamente è più difficile rimanere sempre sul pezzo, sempre concentrati quando le altre squadre arrivano poco in porta questo durante il campionato si è visto anche in merito di miei compagni di squadra però quando arriva il momento arriva l'occasione per la squadra avversaria cerco sempre di farmi trovare pronto All'orizzonte la trasferta a Montegiorgio in casa della sest'ultima della classe partita da non sottovalutare partendo dalle tante cose buone fatte vedere contro il Castelfidardo superato al Romagnoli con il minimo scarto sapevamo che era una partita difficile perché il Castelfidardo era in un buon momento veniva da una buona striscia dei risultati utili e dovevamo essere bravi a fare la nostra partita cercare di farli girare, farli correre e trovare la via per andare a tirare in porta per entrare in area Siamo stati bravi a fare questo nonostante qualche volta ci hanno messo un po' in difficoltà però anche loro riuscivano a far bene a girare palla però siamo stati bravi e abbiamo fatto un'ottima partita Esordio Amaro per il nuovo tecnico dell'Olimpia agnonese Antonio Di Rosa ieri per lui la prima sconfitta era la nona consecutiva invece per i Granata in casa questa volta contro il Real Giulianova vediamo La sfida del Civitelle vale la stagione i Granata vogliono vincere e accorciare sul Real Giulianova terz'ultimo della classe sfida dunque da brividi tra due squadre che non possono permettersi passi falsi la spuntano gli abruzzesi ma quanto rammarico per l'Agnonese che ora gioca e produce azioni da gol in quantità industriale davanti c'è Abercon che sa giocare a calcio qui si gira bene pecca invece nella conclusione altro giocatore che può fare la differenza è Sosa l'assist per Abercon è pregevole peccato che l'attaccante sia oltre la linea difensiva avversaria il Giulianova si presenta con Modic caputo e attento e pulito nell'intervento la gara si sblocca al minuto 28 da Costa entra in maniera scomposta su Barfante l'arbitro non ha dubbi rigore netto le immagini lo dimostrano dal dischetto Cesario porta i suoi in vantaggio sull'altro fronte di Lollo da calcio piazzato disegna per il solito Abercon in cornata alta ancora un'occasione per il centravanti che nella ripresa sarà protagonista squadre negli spogliatoi l'Agnone cambia dentro barbato fuori da Costa squadra a trazione anteriore e riflettori puntati su Abercon che segna un gol fantastico gesto tecnico che andrebbe mostrato ai ragazzini delle scuole calcio in campo c'è un Agnone diverso che va a mille all'ora Vespa crossa dalla destra Tibaldi tocca con il braccio anche in questo caso Jacopetti di Pistoia non ha dubbi Sosa dal dischetto concretizza il sorpasso Granata ora è il Giulianova a dover fare la partita Bitetto ha un asso nella manica si chiama Paudice gettato nella mischia al posto di Modic qui prende confidenza con la porta alto molisana Caputo è superlativo ma al secondo tentativo non sbaglia l'errore della retroguardia di casa è evidente questa volta Caputo non può farci proprio nulla 2 a 2 è tutto da rifare l'Agnone si riporta in avanti con Sosa che ha una marcia in più rispetto agli avversari ma si fa ipnotizzare da Mora gol mancato gol subito incursione centrale filtrante per Paudice che controlla e calcia con precisione Giulianova al settimo cielo e Agnonese disperata squadre lunghe schemi saltati e ultimi minuti al cardiopalma Sosa imbeccato da Alfarano mette alto di testa nel recupero gli ospiti potrebbero chiuderla mentre l'ultima clamorosa occasione è per i padroni di casa con l'ultimo acquisto a Maia che calcia a colpo sicuro Mora è fuori dallo specchio Galli è al posto giusto nel momento giusto e salva i suoi la prestazione c'è non il risultato esordio amaro per il nuovo tecnico dei Granata il molisano Antonio Di Rosa e questo era il nostro ultimo servizio come tutti come vi ricordo sempre potete rivederli tramite la pagina facebook o il sito di Teleregione teleregionemolise.it grazie di essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci arrivederci un buon proseguimento di essere stati di essere stati di essere stati Grazie a tutti.